Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Benvenuti a questa puntata di Trieste in diretta. Oggi essendo venerdì, dopo di noi c'è l'appuntamento con Trieste d'arte e vi porteremo a vedere una mostra fotografica che fra l'altro avevamo presentato durante una puntata di Trieste in diretta. Quindi insomma tutto si collega alla fine. In questa parte della trasmissione invece siamo in compagnia di Martina Borraccia che è presidente del Piccolo Opera Festival e di Vanessa Codutti che è regista anche di uno spettacolo che andrà in scena. Tra l'altro all'inizio di luglio, il 4 è il 6 luglio o 4, 5 e 6 luglio? Il 4 è il 6 luglio ed è una versione della sonnambula di Bellini se non mi sbaglio. Allora, intanto grazie per essere venute nei nostri studi. Parliamo, presidente, prima di che cos'è il Piccolo Opera Festival, tra l'altro. Il Piccolo Opera Festival è un festival che nasce 16 anni fa. È un festival che vuole in qualche modo avvicinare la musica vocale, in particolare l'opera in questo caso qua, al territorio, al territorio locale, quindi alla nostra regione. Però non è un festival solamente regionale, è un festival di carattere estremamente internazionale e nazionale. Quindi si tratta di svolgere, di mettere a frutto e incrociare il mondo della cultura e del turismo attraverso anche l'opera lirica. Ci sono molte location all'interno del festival, il festival, voglio ricordare, si svolge nel periodo estivo, manca molto poco perché cominceremo con giugno. Quindi siamo proprio nel mese del festival e quindi ci saranno 16 appuntamenti, tra l'altro 16 proprio coincide con gli anni del festival, stranamente. 16 appuntamenti dislocati in varie location, quali ville storiche, dimore storiche, castelli, piazze e anche ad esempio palazzi comunali, all'interno di giardini di palazzi comunali, come voglio citarne uno tra tanti, il comune di Cormons. Ci saranno due rappresentazioni, prima abbiamo accennato proprio alla sonnambula, che è la rappresentazione principale, che sarà appunto il 4 o il 6 di luglio, all'interno del castello di Spessa a Capriva del Friuli. La novità di questa rappresentazione sta proprio nella location, perché all'interno del teatro di Verzura, che in qualche modo possiamo tradurlo come il teatro verde, il teatro immerso nel verde, e verrà svolta appunto l'opera della sonnambula di Vincenzo Bellini. Quindi questi sono gli appuntamenti principali, però come dicevo prima ce ne sono parecchi all'interno del panorama regionale. Allora, quando si allestisce uno spettacolo, a maggior ragione immagino un'opera all'esterno, quali sono le cose di cui bisogna tenere conto? Cambia un po' tutto? Come vi muovete? Allora, senza dubbio, allestire per questa location il castello di Spessa è sicuramente una cosa molto interessante, perché significa allestire uno spettacolo, come viene definito, site specific. Cioè, il luogo, sì, concepito per quel posto. È un palcoscenico specifico e non replicabile altrove, se non apportando delle modifiche. Quando si allestisce all'aperto bisogna tenere sempre in considerazione il luogo in cui siamo. In questo caso il palcoscenico è sul verde, è verde, è un palcoscenico erboso. E tra l'altro il castello di Spessa, per come è costituito, per le sue caratteristiche, diciamo che si colloca bene all'interno anche del titolo La Sonnambula, cioè non potevano, Gabriele Ribis, il direttore artistico, non poteva scegliere titolo più azzeccato, perché appunto nel libretto di Romani si cita molto spesso a un castello, alla presenza di un castello. Quindi noi dal palcoscenico possiamo vedere in lontananza il castello, la presenza di un'osteria e nei dintorni del castello c'è anche la presenza. Quindi il pubblico quando è immerso nello spettacolo è realmente partecipe, può vedere l'opera lirica in sé, ma anche guardarsi attorno e trovare forse questi luoghi che vengono citati nel libretto, che ovviamente non sono stati scritti per il castello di Spessa, chiaramente, però raccontano qualche cosa dell'opera lirica. Perché qua, per esempio, non potete fare la traviata in un castello come Spessa? Tutto si può fare. Tutto si può fare? Sì, 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 considerandosi... Sì, sì, si potrebbe fare. Metti che fanno una festa all'aperto. Si potrebbe fare, sì, sì, sì. Assolutamente, secondo me... Lei sta all'aperto quando lui va a trovarla, quando il padre, direi città, mi chiama, di Provenza il mare e il suolo. Sì, 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 no... Esatto, secondo me tutto può essere fatto all'aperto. Ovviamente sì. È sicuramente un carattere di pregio del piccolo opera festival, il fatto di poter fare qualcosa di site specific, perché non sono molti i festival che possono fare qualcosa così all'aperto, usando proprio il territorio, tra l'altro. Quindi è sicuramente interessante. Ma per esempio, ci sono degli accorgimenti speciali nell'uso, che so, della voce, posso immaginare anche degli strumenti, eccetera, e penso anche che non tutti gli spazi si prestino a questo tipo di iniziativa. Esatto, ci sono degli accorgimenti sicuramente da tenere in considerazione, soprattutto anche il rumore di fondo, un rumore esterno. L'anno scorso al piccolo festival abbiamo messo in scena Madama Butterfly, però è stato davvero molto sottile in serata, infatti si sentiva il cinguitio degli uccelli che andavano a dormire, per esempio, in lontananza, si sentivano le rane del castello di Spessa. Quindi bisogna considerare anche gli elementi naturali che si inseriscono nella partitura, nella musica, e che rendono sicuramente più suggestivo la fruizione dell'opera. È uno scenario naturale, nel senso che il palcoscenico è dato dal vero e proprio territorio, quindi non c'è nulla di costruito. Ciò che si vede e si sente è proprio il rumore della natura e la visione, in quel caso lì, siamo sul Coglio, quindi la terra del Coglio, tutta la scenografia è data dal circondario del castello di Spessa, quindi è estremamente naturale e anche, possiamo dirlo, completamente ecosostenibile come tipologia di spettacolo in questo caso. E le questioni che hanno a che fare con l'acustica? Per quanto riguarda, io posso citare lo spettacolo dell'altranno perché è stata la prima volta che si è messa in scena un'opera all'interno del teatro di Verzura. Per quanto riguarda l'acustica, io non ho trovato nessun difetto perché comunque ci sono tutte le apparecchiature necessarie e si sente molto bene, quindi è tutto in qualche modo costruito perché venga fruito in modo corretto. Diamo che non c'è nessuna forzatura da questo punto di vista. Nel nostro territorio, nella nostra regione, ci sono secondo voi ancora spazi da scoprire e da utilizzare per queste iniziative oppure fondamentalmente voi avete un'esperienza di 16 anni, quindi insomma adesso non è elegante dire ma comunque li avrete battuti tutti, insomma immagino, perché c'è ancora qualcosa da scoprire? Dal mio punto di vista credo proprio di sì perché Aviviamo è una regione che ha tante cose da scoprire e che ha tanti luoghi diversi, estremamente diversi tra di loro e posso solo dire che come festival ci stiamo concentrando molto sul territorio del Coglio e quindi la nostra mission, come si suol dire, è quella proprio di focalizzarci proprio nel territorio del Coglio, però nulla vieta di trovare nuove location cioè assolutamente lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo, però sì e ogni luogo, come si diceva prima, ha delle caratteristiche diverse in cui lo stesso spettacolo potrebbe anche essere riprodotto però non sarà mai uguale, vuoi per la location, vuoi per il come deve essere costruito, come si diceva proprio il site specific, quindi anche se lo stesso spettacolo riesce ad avere un risultato diverso comunque sì, assolutamente i luoghi da scoprire ce ne sono Allora qui vediamo intanto alcune immagini che si riferiscono, credo di uno spettacolo dell'altro anno ed è un'operina, immagino che poi non sia offensivo, di Nino Rota che si chiama poi la scuola guida La scuola di guida, sì, è un'opera breve di Nino Rota, dura nell'effettivo 30 minuti, 25 minuti Sì, questa è stata messa in scena l'anno scorso in piazzale della Transalpina e sempre per citare lo site specific, ma la particolarità è che appunto il palcoscenico che noi costruiamo è diviso dalle linee di confine, quindi metà opera paradossalmente è stata messa in scena in Slovenia e metà opera è stata messa in scena in Italia Tanto mi diceva prima Vanessa Codutti che c'è in atto una sorta di riscoperta della produzione di Nino Rota della produzione operistica, perché Nino Rota è l'autore delle musiche, dei film di Federico Fellini fino credo a Prova d'orchestra se non mi sbaglio e anche di altre colonne sonore, per esempio Il padrino e Assassino sul Nino questo pochi sanno, ma il vero Assassino sul Nino, non quella porcheria di Kenneth Branagh dell'altro anno alla colonna sonora di Nino Rota però alternava anche una produzione di concertistica e di lirica che adesso mi diceva si sta riscoprendo Esatto, sì sì, nell'effettivo come giustamente lei ha detto, viene spesso ricordato per la musica per film ma in verità lui ha composto molto anche per l'opera, ha appunto quest'opera breve, anche concerti e piano piano stanno venendo riscoperti E questo è anche un bene per dire la verità, perché poi è uno dei grandi della musica del Novecento del nostro paese che poi si esprima al cinema piuttosto che in opera o in sinfonica insomma è un altro tipo Qui invece questo che cos'è? È sempre la scuola di guida In verità abbiamo accorpato, ecco questo qua in verità abbiamo fatto un dittico abbiamo unito la scuola di guida a una nuova composizione del maestro Agostini si chiama La Cantante e diciamo che è un dramma giocoso nel senso che La Cantante racconta un po', parla di se stessa di quanto spesso sia difficile riuscire ad avere degli ingaggi e riuscire a mantenerli siamo riusciti ad unirli insieme raccontando appunto come si vede è un po' un allestimento che richiama un set cinematografico quindi lei uscita dall'automobile racconta poi se stessa Ah quindi la stessa che è quasi un continuo è quasi un continuo si è accorpato molto bene è anche curioso ecco che tipo di, diciamo, che tipo di fantasia non è bello però mettiamola così immagino anche che appunto questi luoghi che hanno già una loro struttura appunto ben definita però, come dire, stuzzichi anche la fantasia di chi poi è chiamato a mettere in scena è certo perché bisogna utilizzare ciò che si ha a disposizione se si ha a disposizione un balcone per esempio si può benissimo fare una scena al balcone di Rosina per esempio o di Giulietta Romeo quindi insomma bisogna davvero sfruttare ciò che si trova sul territorio e secondo me possono esserci davvero delle cose molto carine ed interessanti perché abbiamo molto verde, molti castelli, molte ville che si presterebbero benissimo qui era proprio una sorta di, vorrebbe dire quasi uovo da colombo nel senso vicino alla però sì, bisogna anche, e bisogna anche immagino per meno per come la vedo io che queste cose non sembrino fatte tanto per fare perché se no il pubblico sgama, immagino questo tipo di cose beh, io credo che è un generale il discorso sì, certo, certo beh, abbiamo citato prima anche la piazza transalpina ecco, Vanessa, eccola lì abbiamo citato la piazza transalpina che è la location che stiamo vedendo adesso ma mi fa piacere anche confermare che anche quest'anno al 16 come chiusura proprio del festival il 16 di luglio saremo nuovamente in piazza transalpina con l'orchestra Go Borderless che è l'orchestra composta da elementi quindi diciamo una formazione sia italiana che slovena perché mi fa piacere ricordare che il festival è sempre stato un festival transfrontaliero quando insomma ancora in tempi non sospetti quindi c'è questo binomio tra la parte italiana e la parte slovena anche con tutte quelle che sono le varie collaborazioni le associazioni che ne fanno parte che continuano ad andare avanti quindi ci sono molti progetti fatti assieme a tutta la parte culturale che c'è dall'altra parte del confine ormai è un confine che non esiste più ringraziandovi c'è un altro appuntamento di opera che viene presentato quest'anno ed è corretto proprio il malato immaginario? sì è tratto da Molière ma non necessariamente se ho letto bene rapidamente dalla commedia di Molière sì, è di Leonardo Vinci il festival vede come questa data la prima data disponibile è il 24 giugno saremo proprio a Cormons all'interno di Palazzo Locatelli quindi il palazzo comunale quindi non lavoriamo solamente con ville giardini, ville d'epoca ma chiaramente ci sono anche i palazzi comunali che nel caso in cui rispecchino una location che possa competere con quella che è un allestimento per uno spettacolo chiaramente si riesce e là si può immaginare che a Pagone se non mi sbaglio è o Argante il malato immaginario che vivesse in una casa come quella del palazzo comunale di Cormons sì, questo verrà fatto all'esterno però comunque diciamo che ci sono queste due opere principali che appunto sono la Sonnambola e il malato immaginario dopodiché viriamo anche su altre tipologie di spettacoli diversificati faccio un esempio ci sono i percorsi musicali che sono percorsi che vengono sviluppati anche all'interno del settore enogastronomico, vitivinicolo quindi le cantine saremo a Dolegna del Coglio saremo anche sempre a Capriva all'azienda Russiz Superiore quindi abbiamo sì l'opera principale come principale elemento ma anche spettacoli è brutto dire minori perché non è così diciamo spettacoli meno complessi diversi esatto diversi ma che portano sempre lo stesso soggetto quindi c'è sempre comunque l'elemento musica e opera ecco c'è un abbiamo parlato ci siamo intrattenuti sui luoghi dal punto di vista musicale per esempio gli autori o gli stili che vengono proposti quali sono? anche lì c'è una sorta di obbligo obbligo non è bello comunque di suggerimento mettiamola così suggerito dal luogo oppure nulla vieta che penso detta lo dico così che in una cantina si suoni jazz ma sì diciamo che c'è un po' entrambe le parti c'è uno studio magari sulla tematica che può essere la tematica dell'anno del festival dedicato al festival quest'anno sono i risvegli ecco volevo chiedere anche le ragioni del titolo arriviamo sappiamo benissimo da che periodo arriviamo nonostante sia passato già un po' di tempo quindi quest'anno l'altro anno il festival è riuscito molto bene però chiaramente con tutti ancora i limiti del caso quest'anno diciamo che si riparte al 100% quindi risvegli è un po' è un modo per dire ci risiamo ci risiamo svegliamo ci partiamo infatti il primo spettacolo sarà a giugno al castello di spesso e sarà una colazione quindi partiamo dal mattino nel vero senso della parola mi permettetemi la battuta squallida ma io ho questa può sembrare strano che all'interno di una rassegna che si chiama risvegli ci sia la sonnambula è un po' un paradosso ma diciamo che date pazienza io quando vedo una battuta anche distante non mi interessa se è bello o brutto devo farla è più forte è la mia natura come diceva lo scorpione alla rana anche perché abbiamo un programma da riempire con battute e quindi dobbiamo anche come dire alleviare il lavoro di chi monta quel programma allora volevo chiedere invece a Vanessa una cosa che mi incuriosisce abbastanza nel senso che Vanessa è giovane non posso dire l'età perché non si dice ma insomma è giovane io lo dico spesso nella nostra regione che propone parecchie cose io mi concentro di più sul teatro di prosa che non sulla lirica perché non ho una grande competenza per quanto riguarda la musica però secondo me avverto persino io che sono anche conservatore di gusti avverto la necessità di uno svecchiamento degli spettacoli eccetera ora è facile parlare nel senso dici svecchiamento cosa significa la traviata in jeans tosca col keyway adesso non lo so è difficile proprio come posso dire modernizzare attualizzare uno spettacolo nella fattispecie lirico magari per catturare un pubblico più giovane eccetera ce mi chiedo proprio se anche voi che mettete in scena questi spettacoli sentite questa esigenza ed eventualmente poi come vi comportate una volta eventualmente appunto deciso di procedere su questa strada allora non è tanto difficile trasporre un'opera lirica a un linguaggio più moderno ma paradossalmente trasporla in quanto epoca storica è un po' più complesso come dire insegnare al pubblico o portare il pubblico a identificarsi o a credere in quella cosa lì che ti stiamo proponendo come regista anche la sonnambula che proponiamo al teatro di Verzura ovviamente è stata trasposta nel senso che è ambientata ai giorni nostri all'epoca quotidiana attuale la cosa bella dell'opera lirica è che la maggior parte dei titoli sono attemporali le tematiche spesso sono attemporali e ci si può davvero identificare molto spesso in ciò che accade io credo che solo Tosca sia ambientabile solo in quel solo in quel periodo e solo in quei luoghi forse lei i riferimenti sono talmente precisi eccetera che io non riuscirei a vedere laddove per esempio insomma in anni neanche tanto recenti ma insomma si Butterfly è stata ambientata nel Vietnam io ho visto anche una una bohème dove penso che Violetta chi è che muore no Violetta muore no Violetta è in Traviato Mimì 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 muore mi sembra di AIDS e non e non di Tisi insomma voglio dire beh sì l'opera è abbastanza tra l'altro l'opera Bastiglia ha messo in scena una una bohème nello spazio su una navicella spaziale questa è molto interessante questa è tosta però capisce che si può fare davvero tutto l'importante è far credere al pubblico immedesimarsi e però io anni fa al Teatro Verdi dettero una versione della Vedova Allegra che iniziava in maniera molto molto nuova per dire la verità però poi nel nel secondo e nel terzo atto questa novità non veniva portata avanti quindi c'è bisogno anche secondo me da parte di chi mette in scena di avere il coraggio di portare fino fino in fondo determinate scelte perché se no allora sì è facile mettere la gente in jeans piuttosto che in crinolina ci vuole coraggio nel farlo ci vuole anche una coordinazione tra tutti i dipartimenti interni non solo la regia ma anche la direzione musicale e il libretto verificare che sul libretto non ci siano troppi riferimenti all'epoca storica però trasporre è sicuramente interessante e anche appunto come lei diceva all'inizio per portare anche anche un pubblico giovane a vedere l'opera ma poi chi comanda perché qui mi domando sempre non è senso in un'opera di prosa insomma comanda il regista poi dopo si sa che magari nel corso delle repliche gli attori fanno quello che vogliono per cui ogni tanto il regista manda l'aiuto per vedere in un'opera lirica chi comanda comanda il regista comanda il direttore d'orchestra chi allora c'è la sinergia di entrambi dove giustamente deve dialogare il scenico con musica devono dialogare però e quindi mi duele dirlo perché comunque sono regista la parola finale ce l'ha la musica beh sì perché se qualcosa non funziona in scena e la musica sì il direttore musicale non riesce magari a vedere un cantante in scena perché è stato posizionato dietro ad un albero cosa sconsigliare sconsigliatissimo ovviamente non è il caso e ovviamente deve intervenire il direttore e cambiare allora perché si chiama Piccolo Opera Festival beh Piccolo Opera Festival proprio del perché questa domanda credo che andrebbe rivolta più al direttore artistico ah ho capito perché lui diciamo che è stato tra l'altro lo voglio salutare Gabriele Ribis il direttore artistico lui è stato diciamo il promotore colui che ha fatto nascere questo questo festival quindi in qualche modo questa sarà una domanda che gli porrò io direttamente perché mi sembra che nemmeno quando la prima volta venne da noi parecchio tempo fa mi pare che non non gliela feci come domanda se l'è tenuta oggi oggi si è ricordato di farla bene allora ripasseremo la palla a Gabriele chiederemo a lui sicuramente il perché beh presumo che comunque Piccolo perché è un è un insieme di opere che che si muovono no non c'è qualcosa di stabile e forse anche il fatto che sia appunto eseguito in location non per forza no gigantesche o che sia in qualche modo ridotto in qualche modo potrebbe essere anche quello un motivo ma questo glielo sveleremo la prossima volta che ci vediamo più che volentieri allora ricordiamo un po' di date ed eventualmente anche come fare per assistere ai vari spettacoli incomincia quando o è già incominciato perché comincia il 21 di giugno come dicevo prima ci sarà la prima al castello di spessa con questa colazione dopodiché intanto il festival parte dal 21 al giugno al 16 luglio e ci sono vari appuntamenti chiaramente il 21 di giugno saremo a Capriva il 24 di giugno invece saremo a Cormons e dopodiché è chiaro che adesso tutte le date io mi sono portata al Deplian perché ce ne sono parecchie di date ce ne sono parecchie di location quindi così brevemente posso elencare quello che andremo a vedere in questo circa in questa trentina di giorni quindi abbiamo come dicevo prima il 21 al castello di spessa il 23 siamo in Villa Vipolge nel Berda quindi siamo in Slovenia e il 24 siamo a Cormons sempre con l'ammalato immaginario quindi sarà la prima dell'ammalato immaginario poi torniamo sempre in Slovenia nel Berda nella chiesa di Vendrian e con le note di lavanda ecco ad esempio qua prima citavo il fatto di collaborare anche con le realtà locali come ho citato le aziende vitivinicole ma in questo caso qua ci sono le aziende che producono lavanda quindi ci sarà anche questo elemento caratteristico del territorio e poi il 30 di giugno saremo al castello di Kronberg a Nova Goriza quindi siamo di nuovo in Slovenia e ci sarà un aperitivo con Vivaldi e seguendo poi nel percorso cominciamo con i primi di luglio siamo il primo di luglio a 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 dove dicevo appunto l'ho citato prima e sarà una serenata tra le vigne in questo caso qua per cui ci sarà anche una bicchierata finale e andando avanti anche questo un appuntamento molto importante saremo a Palazzo Coronini Kronberg a Gorizia e qua ci sarà Rossini Fit Carlo X e quindi ecco qua che torna un po' in gioco questa rivisitazione dell'opera che non per forza deve essere classica ma può avere anche un connotato più contemporaneo più accattivante e poi tra il 4 e il 6 di luglio abbiamo detto appunto che abbiamo i due appuntamenti più importanti al teatro di Verzura con la messa in scena della Sonnambula e dopodiché andiamo al 5 del 7 quindi il 5 di luglio siamo al castello Formentini con i vincitori del concorso della musica Goriziensis quindi siamo a San Floriano del Coglio poi torniamo a Capriva Villa Russiz il 7 di luglio e dopodiché invece abbiamo al castello di Dobrovo quindi torniamo di nuovo in Slovenia quindi ho detto questa valenza transfrontaliera e siamo al castello di Dobrovo dove ci sarà il Balcon Opera quindi quest'opera dal balcone quindi in questo caso qua si sfruttiamo quella che è la caratteristica del luogo poi ci sarà l'omaggio a Maria Callas in particolare il 9 di luglio sempre al teatro di Verzura a Capriva dove verrà consegnato anche il premio Casanova del castello di Spessa che è un premio che ormai consegnano da parecchi anni quindi in contemporanea e dopodiché andiamo sempre torniamo a Cormons nella rocca di Cormons dove ci sarà uno spettacolo alla chiesa della Beata Maria Vergine prima sulla rocca dopodiché si scende anche perché è anche dinamico lo spettacolo in questo caso qua perché si parte dalla rocca quindi in cima al Monte Quarin dopodiché si scende verso la chiesa e l'appuntamento del 15 di luglio sarà invece a Russi superiore quindi siamo nel comune di Mossa e chiudiamo come ho detto anche prima il 16 di luglio in piazza Transalpina ma prima verso sera quindi verso le 6 e mezza lo stesso concerto con la Goa Borderless Orchestra sarà prima in piazza Vittoria e poi si chiuderà si trasferirà in piazza Transalpina quindi anche qua c'è un dinamismo c'è un movimento abbiamo sforato di brutto ma pazienza l'ultimissima cosa rapida ci si deve prenotare come funziona sul sito immagino sul nostro sito Piccolo Opera Festival i biglietti sono già disponibili si può prenotare tranquillamente allora io ringrazio Martina Borraccia presidente dell'associazione Piccolo Opera Festival e Vanessa Codutti direttrice di scena e regista della Sonambula per essere state con noi buon lavoro davvero e complimenti anche per questa manifestazione chiudiamo questa parte come vi dicevo subito dopo c'è Trieste d'Arte questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste è realizzato